Sciopereranno fino a sabato 280 lavoratori di diverse strutture culturali e archeologiche della regione, compresa la soprintendenza dei beni culturali di Caltanisset, per chiedere un miglioramento delle condizioni contrattuali. Lo scioper è stato proclamato da diverse sigle sindacali, cui rappresentanti hanno chiesto un incontro con i vertici regionali per chiarire la situazione dei lavoratori e delle loro famiglie, che attualmente vivono grazie a stipendi minimi di appena 600 euro mensili.